E' uno dei protagonisti dell'ottima stagione disputata fin qui dal Bari. Il centrocampista bianco-rosso Raffaele Maiello è intervenuto in conferenza stampa per parlare del buon momento dei galletti. Dobbiamo continuare il percorso che stiamo facendo. Da inizio anno all'ultima gara abbiamo sempre mantenuto la nostra identità, siamo sempre stati lì. Quindi penso che la squadra c'è, lo dimostra anche l'ultima partita con il Frosinone. Abbiamo portato un ottimo punto, un buon pareggio contro, secondo me, una squadra davvero forte. Maiello, ammonito nell'ultima partita pareggiata per 0-0 contro il Frosinone, sarà come capitano di Cesare assente per squalifica nel prossimo turno che vedrà il Bari impegnato in trasferta contro la Ternana. Mi dispiace non esserci domenica, una partita così importante, però quando purtroppo si è diffidato prima o poi il cartellino arriva. Da parte loro è normale, secondo me, caricare la partita. Non vengono comunque dall'ultima partita una sconfitta e noi dobbiamo pensare a noi stessi come sempre. Sappiamo che da qua alla fine saranno tutte battaglie, tutte partite difficili perché i punti veramente iniziano a pesare. Così il centrocampista Biancorosso sullo spirito di gruppo. Ognuno di noi vuole raggiungere un obiettivo importante, ognuno, noi, voi, tifosi, tutti, tutti insieme. Io quello che posso dire è che noi ce la metteremo tutta. Da qui alla fine proveremo in tutti i modi di fare il più punti possibile e di arrivare dove tutti speriamo di arrivare.